Devo togliere la suoneria al cellulare, interdonabile. Grazie. Bene, siete tanti, vi dico subito questo. Si vede che non sono una persona spigliata, credo, no? Io ho presentato i miei film, faccio anche degli stage, mi capita spesso di parlare con tante persone, mai con così tante e mai così tante paganti. Quindi è abbastanza preoccupante, casomai comunque io vi do i miei contatti, io vi rifondo, vi restituisco a quello che avete speso. Grazie comunque di essere qua. Io ho spesso cercato di capire che cos'è, me lo sono ripassato anche stanotte nel Dormiveglia, che cos'è fare un film, decidere di fare un film. di una cosa sono abbastanza sicuro, che è una cosa che mi accade tutte le volte che sto per iniziare un film, quindi parliamo proprio della fase in cui ho già scelto, ho già scritto la storia e sto per iniziare il film. Iniziare dalla preparazione, da quell'insieme di scelte che qualificano un po' il lavoro di un regista, perché il lavoro di un regista è compiere delle scelte e pregare di arrivare alla fine del film con il minor numero possibile di rimpianti sulle scelte che abbiamo fatto. Qualche rimpianto c'è, ma c'è anche qualche regalo. Però la cosa principale è che ogni volta che sto per iniziare il film, e questo ha a che fare col tema del movimento, io mi immagino un movimento, però mi immagino un tunnel. Un tunnel in cui io sono dentro, senza via d'uscita, dove non c'è più spazio per il mio mondo abituale, per le mie pigrizie, per qualche libro da tenere sul comodino e da leggere, per qualche aperitivo, perché no, per qualche ritaglio di vita personale, privata. Tutto questo non esisterà più e la cosa mi spaventa abbastanza, o un po' come mi spaventa stare davanti a voi. Ma effettivamente poi mi accade una cosa stranissima. Quando sono nel tunnel, il tunnel mi piace moltissimo. Il tunnel è la mia vita. Perché il tunnel è la mia vita? È una cosa davvero strana. E lo rinvio, tant'è vero che io faccio un film in media ogni tre anni. La pandemia mi ha aiutato anche a superare questo record, quindi ogni cinque anni con la pandemia, perché ho ritardato. Però io lo ritardo perché il film è qualcosa di veramente impegnativo. È impegnativo in maniera incredibile. Però dimentico sempre quanto sia bello, poi nel momento in cui sono nel tunnel, perché devono essere prese delle decisioni, senza troppi tentennamenti, perché le decisioni hanno una conseguenza, perché le persone ti sottopongono, i tuoi collaboratori ti sottopongono continuamente a delle decisioni da prendere. La costumista che ti dice se va bene quel maglione o l'altro, lo scenografo che ti porta a fare dei sopralluoghi. e le problematiche che riguardano la fotografia, scegliere come inizierò la giornata. Insomma, dal momento in cui io sono convocato, insomma, la mia attenzione è tutta su questo stranissimo mondo in cui c'è anche una gerarchia assoluta in cui il regista è al vertice di questa piramide, che è anche un privilegio spaventoso, perché è una condizione condivisa anche con gentilezza, in cui io poi cerco di coinvolgere tutti i miei collaboratori dall'ultimo in ordine di mansione, la più umile alla mansione più responsabile, ci tengo che il film sia un po' anche un film di tutti. Perché però? Perché non voglio che il film sia di tutti, nel senso di una specie di proprietà autoriale, no, vorrei che loro mi aiutassero a fare il mio film. E questo comporta la capacità di accogliere i consigli e respingere i cattivi consigli, no? Voi sapete meglio di me che mi ricordo nel mio primo film io andai sul set con la decisione già presa di dove avrei messo la macchina da presa perché per guadagnare un po' di fiducia in termini di impressione, di autorevolezza, di essere una persona che sa quello che vuole, no? E quindi davanti ai macchinisti, agli elettricisti che mi guardavano con sospetto, io dissi macchina qui, no? E ovviamente non voglio sentire discussioni e non voglio... Però davvero in questo caso era proprio un inizio e quindi dovevo per forza conquistarmi un po' la fiducia, anche se poi era più una preoccupazione, una paura. Però davvero è importante, non ci sono competenze talmente specialistiche che superano quella sensazione che hai se la cosa ti corrisponde o meno. A me è capitato a volte anche di parlare con direttori della fotografia che hanno ovviamente delle competenze superiori per quanto riguarda la luce, però di avere delle sensazioni molto precise e di sottoporli a una serie di domande, di dubbi e di anche indurli al cambiamento di alcune idee abbastanza che si erano predefiniti nella loro testa. E questo è molto importante, perché così come è molto importante accogliere, accogliere qualcosa che ti viene regalato da direttore della fotografia, da un attore, qualcosa che non avevi previsto, perché il problema non è tanto di eseguire, questo è anche il movimento, non si tratta di mettere in atto quello che è stato scritto, anche perché noi facciamo un film anche sempre cercando di capire che film stiamo facendo, non è una semplice esecuzione di un piano, è un piano che poi ha a che fare con tante cose che ti sfuggono, che fanno parte della vita, dell'imponderabile, della variabilità umana, di un gesto che fa un attore che a te sembra un regalo venuto dal cielo e che lo metterai al montaggio e chiedi all'attore e all'attrice di farlo. È vita, no? È vita in tutti i sensi. A volte gli stessi personaggi che hai creato, che hai scritto, ti reclamano qualcosa, pretendono qualcosa, suggeriscono qualcosa, ti mettono di fronte a qualcosa di cui non si è convinto. Io sono stato sempre affezionato all'idea del cinema come qualcosa dove c'è questa specie di corpo a corpo, no? Col film fisico. È vero che è un lavoro faticoso, molto di là del budget, non crediate che sia una questione di budget. Così come non è una questione di budget, di budget è l'idea che si fa spesso del cinema indipendente, come se il cinema indipendente sia necessariamente un film a basso costo, no? Un film indipendente è un film che risponde a un pensiero indipendente, no? E allora questo pensiero indipendente va coltivato, va in qualche modo educato, va rafforzato attraverso tutto quello che è la tua vocazione, perché nel mio caso, sebbene tardiva, si tratta di una vocazione e non di un tentativo di raggiungere uno status, certo non mi farebbe schifo, così come avere una decorosa vita, così come sono anche parzialmente vanitoso, se non esce un articolo su un giornale che mi aspetta ci rimango male, però davvero non è questa la cosa che mi interessa, perché tutte le volte che ho provato a cercare in qualche modo di assecondare altre cose, insomma io penso che la cosa più importante in questo lavoro sia anche la stima che riceve dagli altri, anche incontrare qualcuno, un ragazzo che mi è capitato, qualcuno che mi è fermato in metropolitana, mi ha detto, ah lei non sa in che modo, uno per la verità mi ha detto, ho visto il suo film e lei mi aiutava tantissimo perché ho lasciato mia moglie, cioè che è una cosa che mi ha preoccupato parecchio, però in effetti l'idea di entrare nel comune sentire delle persone è la mia massima ricompensa, non ci può essere niente di meglio. Poi noi abbiamo scelto un lavoro che forse il mondo attorno ci fa pensare che debba essere sancito dal successo, però guardate che rimanere attaccati a un'idea del proprio lavoro, mettere insieme una serie di cose che ti corrispondono, che ti somigliano, per cui ricevi anche dei consensi, pochi o tanti, cioè non è una cosa da poco, è una cosa che io consiglio a chiunque nel suo lavoro, perché ognuno nel suo lavoro cerca o deve cercare di mettere le proprie impronte digitali, quello che è lui, quello che è non di applicare semplicemente delle nozioni o dei metodi, ma di anche stimolare le sue intuizioni, di avere un rapporto in cui c'è qualcosa di personale in quello che fai. Ecco, io non sono un regista marginale, non sono mai stato, mi piace l'industria, però mi piace attraversare quella strettoia che sta tra il mercato e lo sguardo personale, il proprio mondo. Cercare di far vivere delle storie, cercare di fare in modo che queste poltrone siano occupate, che ci sia uno sguardo di qualcuno che sta lì e partecipa alle mie storie, e nello stesso tempo cercare anche di manifestarmi, perché manifestarmi è la cosa più importante per me, non è un manifestarmi narcisistico, se non c'è questo ponte tra me e lo spettatore non potrei essere mai soddisfatto. Ovviamente si tratta di scegliere anche che tipo di pubblico, non sempre ci troviamo d'accordo con tutti i pubblici, e allora in questo senso bisogna anche accettare di non poter raccontentare tutti. E allora io quando mi trovo a pensare al movimento, che poi forzatamente cerco di inserire nelle mie considerazioni che riguardano il lavoro, ovviamente io sono portato per natura anche nei miei film, se fosse per me sarei sempre nel tentativo di andare fuori tema, se ci fosse un tema e un argomento da discutere io tenterei, mi piacciono le digressioni, anche nei racconti, a volte suscito qualche problema con i miei produttori, perché mi inducono a tagliare delle parti che non sono fondamentali nella storia. No, ma cosa vuol dire che non sono fondamentali? Io amo le cose che non sono spesso fondamentali nella storia, e a volte anzi trovo che non siano interessanti molte delle cose che servono a far andare avanti la storia, perché in quel meccanismo lì non ci sono misteri, non ci sono sorprese, e quindi illusoriamente la storia va avanti in un senso formale, però non rivela un vero e proprio movimento, non scopre niente, non inventa spazi immaginativi che ci attraggono, che ci fanno riflettere, che ci inquietano, che ci... Ad esempio, non sono un regista che cerca di fare dei film su un argomento, anche se inevitabilmente, per esempio, L'Ombra del Giorno è un film ambientato durante il fascismo, nel periodo che va dal 38 e il 40, però è una storia d'amore, ed è una storia d'amore che ha delle risonanze, perché è una storia d'amore in quegli anni difficili, quindi in qualche modo non è nemmeno semplicemente una storia d'amore. Però non credo che ci sia un argomento che sia così abbastanza nobile da dare di per sé il valore al lavoro che fai, al film che fai. Spesso vedo gli argomenti che tu condividi, i contenuti li condividi, sul piano civile, eccetera, però dal punto di vista filmico non sono affatto interessanti. E spesso invece ci sono film, pensate un po' alle storie, alle canzoni, le più belle canzoni sono canzoni d'amore. Pensate a chi scrive Tu sei il mio sole, pensate a uno che invece scrive una canzone in cui dice Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Insomma, c'è una bella differenza, è una canzone d'amore, però guardate che voragine apre dentro di noi, quanti stimoli, quanti riflessioni, che unicità ha questa frase, che bellezza, che la bellezza è anche questa, a volte diciamo una bella fotografia, un bravo attore, una bella musica, però la bellezza, questo me l'ha detto Margherita Bui, un giorno ho fatto a lei un'intervista, la bellezza a volte è noiosa, la bellezza non è te che sei bella come attrice davanti alla bellezza, è l'armonia tra chi ha scritto quella scena, chi l'ha fotografata, chi la sta recitando, chi l'ha diretta, chi l'ha pensata, insomma, ecco l'armonia, quell'armonia di queste varie componenti che fanno sì, è questa armonia che fa sì che si possa parlare di bellezza, non una bellezza esplicita, manifesta, un po' aggressiva, o superficiale, io poi a volte penso che nel cinema, mi piace che ci siano, nei miei film anche, io tento sempre di sposare un codice che è quello del realismo, nello stesso tempo di fare dei piccoli tradimenti, dei piccoli scarti, di produrre qualcosa che non è semplicemente il linguaggio del quotidiano, non è semplicemente l'idea che noi abbiamo della realtà, e quindi mi piace per esempio che i dialoghi siano scritti, non mi piace che i personaggi parlino come parlano nella vita, non mi piace sentire mugugni, o che fai? In questo senso mi viene in mente una certa scrittura che c'era in certi film francesi, gli anni 30-40, il famoso realismo poetico francese, Jean Gabin, dove Marcel Carnet riesce a fare la storia di un operaio, però con i dialoghi di Prevert, con delle suggestioni, eppure siamo nel realismo, però in un realismo ricco di suggestioni. Mi piace che ci sia l'artificio, mi piace dare dire che l'artificio a volte serve per raggiungere una verità. Io ho fatto un film che si chiama La vita che vorrei, dove due attori cercano di amarsi e non riescono, erano Luigi Locascio e Sanda Ceccarelli, e non riescono nella loro vita reale, nel momento in cui fanno un film in costume, con le parrucche, con i costumi, con il linguaggio un po' obsoleto dei romanzi d'amore dell'Ottocento, eppure in quel momento, dentro quell'artificio, loro trovano una verità. A volte siamo un gran bel dire sul neorealismo, però parliamo del neorealismo, ma quanti film neorealisti sono interpretati, si diceva da attori presi dalla strada, però doppiati da grandi attori di teatro e di cinema. Se voi fate caso alle voci, c'è anche lì un artificio, c'è una colonna sonora, c'è un taglio di montaggio, c'è un modo di raccontare le sequenze, totalmente legato ad un impianto formale. E allora io penso che il cinema, siccome è un'arte dell'esteriorità, cioè è un po' come parlare di noi, io non posso pretendere di sentirmi un personaggio, una persona così sensibile e profonda, soltanto perché lo penso dentro di me. Se questa cosa non viene fuori, in quello che faccio, nel mio modo di vestire, di parlare, di guardare, nei comportamenti, allora penso che l'apparenza nel cinema è la sostanza. E forse in questo bisogna andare un po' al problema che alcune apparenze aiutano a dire la verità, altre aiutano a nasconderla o a mistificarla. Quindi siamo anche cattivi attori e bravi attori, abbiamo brutte parti o buone parti. Io poi sono affezionato alla letteratura, quindi non ho paura di dire che mi piace, sono appassionato di classici, penso che consiglierei a ognuno che non avesse mai fatto di leggere come ho fatto io quattro volte Guerra e Pace, oppure Flaubert o i Russi, di cui si parla tanto adesso, o tantissimi altri scrittori, Scott D. Gerald. Mi piace, quando scrivo i film, mi piace scrivere, anche dedicarmi molto ai dialoghi, alle parole, credo che le parole siano importanti e significative in questa vita così sciatta a volte, in quello che vediamo, negli spettacoli ci vengono offerti, nelle promesse, nelle mistificazioni, nelle bugie, e invece credo che anche con difficoltà sforzarsi di trovare le parole penso che sia una qualità, anche magari sforzarsi di tacere a volte è una grande qualità. Però detto questo, io vorrei arrivare a un primo momento in cui cominciamo a muoverci. io ho trovato per caso qualche giorno fa, anzi, parecchi giorni fa, un saggio di una signora che si chiama Raffaella Viccei, proprio nel momento in cui era stato invitato a parlare qui a Sartana e in cui mi avevano detto che il tema di questo era il movimento, no? E allora questa signora che scrive per una rivista ed è una studiosa di archeologia, mi ha considerato un reperto, probabilmente, di archeologia, di arte, di letteratura, anche è stata molto stimolata dalla visione di questo mio film e lei parla di, ha fatto un po', ha dato uno sguardo ad altri miei film e lei dice c'è una sorta di geografia emozionale, no? Si può costituire una specie, si può prefigurare una specie di mappa di luoghi abitati dai personaggi e che sono appunto portatori, non solo sono uno sfondo, ma sono portatori di un colore, di un'emozione, sono un po' come i protagonisti di un film alla pari di un attore. Io in genere considero la qualità della fotografia, del montaggio, il montaggio ritengo importantissimo e delle altre, della scrittura, li ritengo non funzionali, ma li ritengo davvero come qualcosa di espressivo che si aggiunge agli altri aspetti e mi ha stimolato a cercare di pensare in effetti ai miei film in questo modo e allora mi è venuto in mente che in effetti io se guardo alla gran parte dei miei film che non sono moltissimi, sono undici, per esempio l'ultimo film L'ombra del giorno c'è il personaggio principale, non so quanti di voi lo hanno visto perché penso che adesso sia anche in qualche piattaforma anche se io sarei sempre più felice che si veda il cinema, però in questo film c'è un personaggio che si chiama Luciano che è un reduce di guerra, nel 1938 è un fascista come la maggior parte degli italiani e guarda il mondo fuori dalla vetrina del suo ristorante con l'indulgenza, con uno sguardo indulgente in cui sì, sicuramente lui è un fascista sui generis, pur assento un decorato di guerra non ha fatto carriera, non ha voluto far carriera negli apparati del fascismo, molto di tutto il fascismo in quel periodo ha consolidato un consenso incredibile, non c'è l'ombra di un'opposizione, la stessa opposizione all'estero in particolare a Parigi non riesce nemmeno a prefigurare una sorta di unità di intenti, è parecchio litigiosa, eccetera, per cui il fascismo sembra destinato ad avere una lunghissima vita, no? L'Italia si è fascistizzata, c'è la gioventù Littoria, ci sono le giovani italiane, ci sono le opere pubbliche, c'è il cinema, c'è l'università, c'è tutto quello che si può immaginare e oltretutto Mussolini viene visto anche all'estero come un grande statista, no? È stato il mediatore durante a Monaco tra Inghilterra, Francia e Germania, insomma gli statisti di tutto il mondo guardano con simpatia questo modello quindi potete immaginare come questo lungo giorno di consenso che poi mi ha aiutato anche a dare il titolo del film L'ombra del giorno perché nel 38 c'è la prima inclinatura, le leggi razziali, no? E quindi una grande spaccatura nel paese un primo dopo i periodi dello squadrismo dell'assassino di Matteotti dopo il volto feroce un primo segno del volto che torna del volto feroce del fascismo e allora io ho ambientato questa storia in un periodo che va dal 38 al 10 giugno 1940 e qualche mese dopo perché mi dava l'idea che fosse un periodo insomma interessante vitale quindi ho passato tantissimo tempo ecco come si prepara un film passando tantissimo tempo a leggere a guardare i film a cercare di capirci qualcosa di sperare di non commettere errori ma anche a prendersi qualche libertà perché io ho scelto di ambientare quasi tutto il film in questo ristorante che ha le sue regole con questa persona che guarda fuori il mondo da questa vetrina e se lo guardiamo bene questa vetrina lui sembra che guardi è un po' come che il suo sguardo fosse pieno carico di illusioni no? vede qualcosa che gli sembra che gli dia l'idea che questo mondo funziona ci sono dei bambini che vanno a scuola ci sono delle ragazze che fanno dei saggi ginnici ovviamente c'è qualcosa qualche piccola cosa ci fa pensare che quello sguardo non è uno sguardo totalmente realistico in particolare nella scena dei saggi ginnici con i cerchi c'è uno strano deserto intorno a questa ragazza è come se fosse stato allestito per lui questo saggio e nello stesso tempo questo è qualcosa noi abbiamo sposato perché abbiamo girato in zona rossa in questa città a Scolipiceno e quindi abbiamo io mi sono un po' un po' approfittato della pandemia nel senso l'ho cercato di andare incontro poi vi farò vedere alcune sequenze che vi danno l'idea di questa geografia emozionale di cui parla Raffaella Viccei e che in alcuni casi sono abbastanza evidenti perché soprattutto nelle prime nelle prime poi c'è una cosa a cui tengo in modo particolare e vorrei farvi capire cos'è la qualità del nostro lavoro è quella della messa in scena no? quello che ho detto prima organizzare e compiere delle scelte no? ed è la cosa più importante ovviamente non si tratta delle scelte prendi questo quello no? si tratta anche di qualcosa di diverso di più profondo si tratta di di inseguire un'idea di verità e di non accontentarsi anche della prima soluzione giusta questo mi capita spesso agli attori quando gli attori fanno qualcosa che è giusto io dico c'è qualcosa che non va no? voglio che ci sia qualcosa di più qualcosa di diverso qualcosa che può essere trovata solo cercandola no? poi qualche volta bisogna accontentarsi no? bisogna anche perché non credo che le gli attori debbano sempre interpretare una scena in base all'identificazione o in base a un rapporto di caso effetto per esempio mi sono lasciato come una ragazza allora sono triste non necessariamente così ho un problema enorme e allora sto davanti in una macchina presa e piango scuoto la testa no? probabilmente bisogna anche lavorare contro queste cose una piccola cosa che forse molti sanno che riguarda il silenzio degli innocenti dove Anthony Hopkins Anthony Hopkins viene chiesto dal regista Jonathan Dam allora adesso c'è l'incontro con la lui è in carcere Hannibal adesso c'è l'incontro con la gente Clare Sterling che sta venendo a farti visita come pensi di aspettarla? lui Anthony Hopkins ci pensa un po' Jonathan Dam dice beh forse la cosa migliore dice Jonathan Dam sarebbe che sei seduto sulla tua branda allora lui dice no si alza si mette in mezzo alla stanza l'aspetto così allora Jonathan Dam dice ma tu sei pazzo ma perché sembra quasi che tu ti sia sappia che sta arrivando no e lui dice ma infatti io lo so e perché sento l'odore no non dice sento l'odore ma fa questa cosa qua ora questa è una decisione talmente arbitraria forse anche sbagliata forse non precisa sicuramente non corrisponde a quei rapporti però è una visione quell'attore ha avuto una visione quando noi vediamo quella scena noi rimaniamo totalmente presi e sorpresi e la dinamica di quel confronto è talmente forte che lo dobbiamo a questa scelta che è una scelta ovviamente che l'attore ha regalato al regista che il regista anche ha cercato in qualche modo però credo che sia una cosa importantissima a volte per esempio in un dialogo a volte si sta troppo dentro le ragioni del dialogo a volte gli attori a volte nel dialogo c'è un movimento a volte c'è un suono c'è una musica c'è un ritmo e quelle e quelle sono cose importanti ovviamente tutto questo non prescinde necessariamente dalle cose che vengono dette e non è detto che questa attenzione che noi abbiamo per esempio nei confronti del dialogo in questo modo debba significare esteriorità superficialità no no tutte le battute suonano tutte le battute suonano e però hanno una loro dinamica è come se ci fosse un momento vedete due persone che parlano però che vi accorgete se lo guardate bene vi farò vedere una scena tra Benetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio ovviamente io ho dovuto tagliare queste scene perché soprattutto in testa e in coda perché non avremmo avuto molto tempo per avrei voluto farvi vedere tante cose mi sarebbe piaciuto farvi vedere poi magari ne parlo chissà se riesco a dare l'idea perché non è facile però vedete i loro sguardi cioè lui che cerca lo sguardo è lei lei che nasconde qualcosa che si sottrae c'è anche un movimento in cui una persona cerca di evitare lo sguardo c'è un tentativo di avere un tono di voce più intimo e poi di avere un tono di voce più impaziente c'è un movimento c'è una dinamica così come accade anche se voi ci fate caso anche nel momento in cui noi immaginiamo non so di corteggiare una donna una signora che ci piace ma anche non volendo ormai siamo talmente abbiamo talmente interiorizzato che faremo la voce un po' intima poi magari guarderemo magari in basso mettendoci le mani in tasca se siamo maschietti o comunque cerchiamo di far uscire in qualche modo qualcosa che arrivi a dare la massima compiutezza a quel sentimento magari nascondendolo però con la massima compiutezza a volte il silenzio il silenzio è deflagrante spesso un giorno facevo una scena in teatro ho fatto un lavoro in teatro durante la pandemia perché la pandemia è stato un periodo in cui ho fatto non so come è successo tantissime cose però c'erano Filippo Tini e Lucia Mascina che facevano una litigata feroce a un certo punto lui fa beh basta basta adesso basta ci sono due panchine tu sulla tua panchina io sulla mia basta e si siedono e Filippo Tini si siede e poi ricominciava a parlare allora gli ho detto Filippo Filippo fai una cosa dopo che hai detto l'ultimo basta e ti siedi fai un silenzio lunghissimo cioè qualcosa che era totalmente fuori dalle abitudini dai tempi e lui ha fatto durante lo spettacolo della sera questo silenzio lunghissimo una tensione in sala perché c'è questa energia terribile che è stata sprigionata e di fronte a questo questo silenzio allora il nostro lavoro il mio lavoro è questo cercare di di trovare continuamente quelle cose che arricchiscono che impreziosiscono che danno verità che e questo molto spesso non esiste in quelle produzioni che sono di intrattenimento ma è un errore perché anche l'intrattenimento ha le sue regole e il suo rispetto per gli spettatori noi ci siamo abituati a questa idea che quello sia il migliore dei modi per noi potremmo intrattenerci e divestirci in una maniera che nemmeno immaginiamo avendo un grandissimo godimento non sto parlando di fumisterie autoriali non c'entra niente anche quando si vede un balletto comunque siamo abituati allo standard che è dovuto ai nostri funzionari e dirigenti poi sono funzionari laureati persone che hanno studiato però chissà perché vogliono dare il peggio al pubblico è una cosa da avere perché poi il pubblico può anche sposare però se poi il pubblico si abitua anche alle cose belle poi pretende sempre di più e questo è il mio auspicio che in tutto questo marasma che c'è adesso si torni davvero a privilegiare questo luogo fantastico che è la sala perché uno esce di casa attraverso la città incontra le persone si siede si guarda intorno le luci sono accese c'è la vita intorno a voi e poi si entra tutti insieme non è in questo sogno collettivo no io non penso che questo sia demodeo in uno stadio questo è moderno quell'altro è demodeo quell'altro è vecchio ma stiamo scherzando questa è la modernità questo è il divertimento questa è la sfida che dobbiamo lanciare nei prossimi anni grazie 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 mille allora io adesso partirei con queste con queste clip in cui vi farò vedere poi una scena qui tengo molto perché non abbiamo poi non so quanto tempo abbiamo ancora tantissimo tempo io spero che il tempo passi in fretta però dunque ah c'è una scena la dichiarazione di guerra voi sapete la dichiarazione di guerra di Mussolini no quella dove abbiamo consegnato la dichiarazione di guerra a Gran Bretagna e Francia bla 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 dove c'è questa gran parte delle città italiane le piazze erano gremite arrivava la voce del duce dalla radio e sembrava appunto no come certe sciagurate dichiarazioni di oggi di cui ho molto timore comunque sembrava che l'Italia fosse desiderosa anche se non era così vero perché quella decisione fu presa mascherando e nascondendo incertezze preoccupazioni anche in seno ai stessi gerarchi fascisti desideri diversi opposizioni e però si è mostrata il volto l'immagine di un fascismo sicuro e deciso vince e tutto il resto allora io però ho scelto ho scelto la questa di fare appunto la messa in scena di questa dichiarazione di guerra in un modo diverso da quello che uno realisticamente poteva pensare sarebbe dovuta essere realizzata cioè non c'è la piazza gremita però questo già in sceneggiatura l'avevo scritta ancora prima della pandemia però con la pandemia stranamente ci sono delle risonanze nel film in cui entrano alcune cose che sembrano anche legate a una consapevole invece la sceneggiatura è stata scritta nel 2019 nel febbraio marzo del 2019 era finita ci sono le stesse battute le stesse scene e c'è questa piazza deserta e guardate come che tipo di scelta ho fatto con questa voce che arriva del padre eterno che arriva dal cielo sembra non nemmeno vediamo che sono apparecchi radio altoparlanti insomma siamo sempre questa cosa non stravolge il senso del film però penso che sia stata una scelta insomma importante anche di vista di quello che noi abitualmente facciamo nell'ambito dei film che si vedono in questo nostro paese questo in questo mi appunto una medaglietta perdonate però credo che sia una bella scena che spero che un giorno molto lontano qualcuno ricorderà va bene allora vediamo subito il primo adesso c'è questo strumento mi azzardo adesso vedrete una prima scena e poi ne parliamo ne parliamo un attimo ne parlo io cioè vado adesso appare un frame stop stop frame no? vado il titolo è un film di Giuseppe Piccioni di Giuseppe Piccioni avete bisogno di qualcosa? cercate qualcuno di Giorizzo di Giorgio di Giorgio che vuoi senti ancora la mia canzone Senti tu la mia canzone E sangia il tuo favore Ed essa dice vien dame Qui sul cuore O mia Violetta O mia Violetta Non far soffrire questo cuore Ecco qua, abbiamo visto una scena poi che è stata troncata, quella iniziale dove Riccardo Scamarcio guarda dalla vetrina questa realtà con indulgenza. Cosa di meglio di vedere dei bambini di più inoffensivo, di più rassicuranti, dei bambini che vanno a scuola, condotti dalla maestra, tutti puliti. E quindi c'è già la dichiarazione nell'inizio di qual è anche il punto di vista della storia. Perché è vero che io sono il narratore, però è anche vero che questa emozione di condivisione di quello che si vede fuori E' come se mi avesse appunto indotto a stare un po' dalla parte del personaggio, no? Al punto che addirittura quella specie di grazia di queste ragazze che fanno l'esercizio genico con i cerchi, purtroppo è una scena anche quella tutta tagliata per esigenze di tempo. Però anche lì, no? C'è come se lei… Perché questa storia, se dovessi dirla in due parole, è la storia di un uomo che è un ex… E' un ex… Come si dice? Un ex? Veterano. Veterano. Veterano, sì, è un veterano di guerra che ha anche un cuore in inverno, perché questo voi non potete saperlo, perché non avete visto un cuore in inverno, perché quando è tornato ha trovato la donna che avrebbe dovuto sposare, che non c'era più, che era andata a Roma a fare l'attrice che doveva fare. E quindi c'è questa… Questa sorta di… Se dovessi esprimere in due parole, è la storia di quest'uomo che pensa che il mondo fuori da questa vetrina funzioni, non sta fuori da quella vetrina però, questo già stabilisce una distanza perché quest'uomo non riesce a stare dentro la vita di tutti, no? Perché è anche zoppo e quindi questa vetrina è una specie di parete un po' che impedisce a lui di… Però nello stesso tempo ha questa illusione, no? Questo sguardo benevolo degli abitanti della città, è luciano, è stimato. E poi improvvisamente arriva questa ragazza e io direi, nella sinossi direi che ha con sé un segreto, che nasconde un segreto. Poi, vedendo il film, capiremo qual è il segreto e capiremo che sulla carta questa storia d'amore è una delle storie d'amore più improbabili che possono accadere. Ma più improbabili secondo alcuni aspetti che sono ideologici, però che non necessariamente sono sempre uno schema così totalmente immodificabile, no? E quello che accade, un po' come in Rick di Casa Blanca o nell'ultimo Metro o in altri film dove ci sono queste minacce, a un certo punto questo mondo esterno cambia il suo volto e questo affaccio sul mondo esterno in realtà si trasforma in un fortino minacciato e lo sguardo delle persone che sono all'esterno sono sguardi che non promettono nulla di buono, no? Che accusano. Mi dica. No, mi hanno detto di non permetterlo. Mi dica. Quando mi ricapita di imparare con un regista? Eh? Quando mi ricapita di imparare con un regista? Ci vediamo dopo. Se vuole, se no faccio una domanda. Ma no, parliamo dopo io e lei da soli. Volentieri, l'aspetto. Va bene. Allora, insomma, questo è già qualcosa che ti dice che la storia può avere una sua solidità, no? Perché è essenziale, c'è un luogo, c'è un ristorante, è una storia, un film da camera, direbbe qualcuno, però è un film da camera che non è claustrofobico perché c'è l'esterno, no? Non è per dire Casablanca, perché Casablanca è tutto nel locale e poi si esce all'esterno, anche qui si esce all'esterno, però qui c'è una vetrata che dà, è come se fosse, non so, un melodramma, una cosa quasi teatrale, no? C'è una dimensione quasi teatrale, pur essendo carica di cose che hanno a che fare con qualcosa di molto cinematografico. E nello stesso tempo, quando hai in mano una storia che puoi raccontare con poco tempo, poi la sensazione che lì c'è qualcosa che può, che può, con un brutto verbo, può funzionare. Un po' come, che so, mi viene in mente la massima sintesi di un soggetto per me è, destandosi un mattino da sogni inquieti, Gregor Samsa si trovò nel suo letto tramutato in un grosso insetto. Pensate, in due righe Kafka delinea la metamorfosi, uno dei più grandi romanzi del Novecento. E già in queste righe, io sono convinto che i soggetti, molti dicono e molti insegnano che i soggetti devono essere scritti in modo cinematografico, cioè dicendo, non mai mettendo cose letterarie, no? Ma mettendo solo, lui entra in casa, guarda, apre la finestra, vede lei e il dialogo. Io invece sono convinto che i soggetti devono essere evocativi, devono essere un po' letterari, poi c'è tempo con la sceneggiatura di tradurli in qualcosa di strettamente cinematografico, quindi la sceneggiatura poi in effetti serve all'organizzatore, allo scenografo, al direttore della fotografia, perché è uno strumento di lavoro, non ha valore letterario, è come qualcosa che deve essere poi eseguito, poi messo in scena. E quindi, adesso proviamo ad andare avanti, va, con la seconda clip. Ah, c'è questa irruzione che poi prelude all'arrivo di un personaggio, no? Che è un fascista, però oggi non posso raccontarvi tutto, dovrete vedere il film. Ah, devo, scusate, c'è questa cosa qui. Ah, questo è il dialogo che loro vanno, che un po' ricorda, non c'è niente di male a ricordare altri film, un po' ricorda una giornata particolare, perché è il giorno in cui Hitler va a Roma, anche qui ci sono le radio, si sente la radio, e non c'è nessuno in città perché sono tutti ad ascoltare la radio. Anche questa scena è stata tagliata, quindi ci sono dei bruschi attacchi di montaggio. Però questo è interessante perché anche qui c'è un dialogo che, dopo alcuni momenti, molti momenti di conflitto tra i due, che noi non vediamo per niente perché abbiamo visto solo scene abbastanza positive, qualcosa comincia ad accadere tra loro. C'è questo momento in cui loro vanno in un giardino, dove non c'è nessuno, e parlano. E poi vi volevo far vedere cosa significa, poi, attraverso i modi del cinema, usando le superfici, lo spazio, i movimenti, la macchina da presa, come si può arrivare a creare un momento di grande intimità, attraverso uno scambio di sguardi. Perché molto spesso, se noi pensiamo a cosa accade nelle storie in cui c'è una storia d'amore, molto spesso la soluzione più pigra è quella che due parlano, si guardano negli occhi, dopo un po', con un po' di ritrosia, un po' di imbarazzo, eccetera, poi si baciano. Io penso che invece ci sono degli aspetti, c'è una sorta di coreografia che deve arrivare a quel momento, di uno sguardo, di un abbraccio, di un bacio, come una necessità, come un movimento, quasi un balletto, ma anche in un film realistico come Gloria, una notte d'estate, di John Cassavetes, dove c'è Gina Rowlands, guardatelo questo film, vedo che lei è un'attrice straordinaria, Gloria, una notte d'estate. Lei deve proteggere un bambino portericano, perché vuole essere, questo bambino è cercato da una banda di malviventi, di mafiosi, perché questo bambino ha con sé il libro del padre, che è un libro di accusa nei confronti di questi mafiosi. Lei non vorrebbe proprio avere a che fare con questo bambino, che è anche noioso, un po' macista, portoricano, la tratta prima, si aggrappa a lei, poi la tratta come una donna che non vale niente, e lei però a un certo punto lo vorrebbe liberarsi, però a un certo punto c'è questa scena, che è decisiva, perché è un punto in un ritorno, in cui lei cammina, a un certo punto decide, vai, torna, torna a casa tua, non voglio più saperne di te, e questo bambino si aggrappa a lei, lei lo spinge, e questo bambino torna a aggrapparsi a lei, e lei lo rispinge e gli dice delle cose, anche, non posso tenerti con me, sono sovrappeso, dice delle cose, e questo bambino, e c'è una danza, e a un certo punto lei prima di questa danza cerca disperatamente un taxi, fa taxi, 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 poi a un certo punto questo bambino, continua questa cosa, rimane aggrappato a lei, arriva alla macchina con i mafiosi, che fa un giro larghissimo, e lei guarda questa macchina con preoccupazione, perché a quel punto deve fare una scelta, andiamo avanti nel film, nel senso che lei deciderà finalmente di prendersi a carico questo bambino, e di difenderlo e proteggerlo, oppure darà in mano questo bambino a questi, e lei è come se avesse uno sguardo di una preoccupazione spaventosa, poi arrivano questi, si fermano a pochi metri di distanza, bassano il finestrino, dicono a Gloria, dacci il bambino, e va, te le torna, perché Gloria è conosciuta da questi mafiosi, e non è successo niente, ti lasciamo in pace, ma dacci questo bambino, e lei dice, ma che volete fare, è un bambino, non parla nemmeno inglese, non vorrete mica uccidere un bambino, allora il mafioso la guarda, fa un cenno all'amico di andare a prendersi il bambino, e quindi di risolvere la questione in fretta, e lei all'improvviso prende la pistola, veramente questo è un film realistico, però c'è quella componente mitica del personaggio, che in quel momento lei veramente è in eurina, ma altro che Rambo, che prende la pistola e spara, colpendo tutti, più o meno sono quasi feriti, la macchina parte, si rovescia, e lei ha questa tensione incredibile, la musica che scende, si mette le mani nei capelli, il bambino la guarda così, e poi passa un taxi e lei fa, taxi, con una ferocia, con una forza, con una terminazione, parte la musica lì, su questa cosa, una delle scene più belle della storia del cinema, se vi capita io vi invito a vederla, Gloria a una notte d'estate. Bene, Andiamo avanti. Ci sa quante cose vi volevo dire. Guardate gli sguardi, guardate le parole. Ecco. Che tipo siete voi? Non si vede? Non tutto. Beh, voi invece? Avete alzato un bel muro. È difficile guardare al di là. Anche se ogni tanto mi pare che si apra uno spiraglio. E cosa vedete? Un bravo ragazzo. Anche se mi sono accorta delle belle signore che vi girano intorno. Non vi aspetterete che dica che anche voi siete una brava ragazza perché non lo siete. Un bravo ragazzo di te. Non vorrete luogarvi. Qui c'è un taglio. C'è la radio con la cronaca di... a che c'è un Ecco, voi non avete visto, ora cosa accade è che alla fine di quel dialogo lei entra in questa specie di tempietto, è come se immaginassi una musica interiorizzata, e lei comincia a ballare, e lui si appoggia alla parete e la guarda, e lei balla e sorride, balla una specie di Charleston, e poi nel finale fa un salto ed esce dal tempietto e sparisce alla vista di Luciano, infatti c'è questa scena, vedete lui si guarda intorno, non la vede più, e la vede apparire dietro quel vetro, con questo sguardo che non è malizioso, di risata, di complicità divertita, però quella durata che c'è nello sguardo dà spazio a qualcosa di più, allora lì con quel vetro, con quella distanza, con quello sguardo che diventa così nudo, così scoperto, ecco che l'intimità è raggiunta, allora non siamo ancora al bacio, non siamo ancora al sesso, però l'intimità profonda, vera, tra due esseri umani è raggiunta. E subito dopo questa vedremo una scena che è un po' la chiave del film per alcuni aspetti, perché è un momento in cui a lui sembra di vedere un mondo che è in pace con se stesso, persone quasi sempre le stesse che hanno messo il vestito buono, fanno passeggiate, lui dice la gente vuole questo, non vuole nient'altro, no? E lei si stacca da lui a un certo punto, guarda anche lei fuori e vede un'altra scena, e quest'altra scena la vedrete e dice a lui, chissà perché io non vedo le stesse cose che vedete voi, no? Questa è una scena che prelude al discorso delle leggi razziali, senza fare nessuna esplicitazione, no? Dopodiché c'è un dialogo che fanno, dove ho dovuto tagliare anche lì tutto il prologo, perché lui stanno nel ristorante, lei è lì in silenzio, lui inizia a parlare delle cose da fare, poi si accorge di questa sua presenza in silenzio e capisce che c'è qualcosa che non va, che lei vuole andare via da questo ristorante, no? E allora comincia a fargli delle domande, a immaginare il perché di questo voler andare via e vedete come cresce, fate caso a come cresce questo dialogo, come si muove, come si muovono i corpi, come si muovono gli sguardi, come ci si sottrae, come ci si avvicina, provate a vedere anche questo, il risultato di un lavoro, no? Di un lavoro appassionante, che se visto in questo modo, io non posso augurarmi di poter fare un lavoro migliore di questo, non so, forse fossi stato, ecco, Maradona magari, no? Forse si poteva essere l'impresa estetica, forse, però preferisco il cinema. Ah! Vado? Cos'è che vi mette di buon umore? Ma la gente va fuori, quello che vogliono è semplice, qualcuno si innamora, qualcuno vuole andare a ballare, qualcun altro mette su famiglia, fa i figli e poi si mette il vestito buono per fare la passeggiata la domenica. A me ogni tanto piace restirmi di tutto punto e andarmene a spasso, senza pensare a niente, anche se adesso non lo faccio più. Che cos'è che ve lo impedisce? Beh, da soli dopo un po' ci si annoia. E voi state bene da solo? E la cosa mi riesce meglio. Chissà perché non vedo le cose che vedete voi. Ah, avete fermato tutto? Allora vado avanti. Avete l'aria richiesta per dirmi qualcosa che non mi farà piacere? Per qualcosa che ho fatto? Sono stato sgarbato con voi? No, no, anzi. E allora? Non mi chiedete perché, ma forse è meglio che non venga più. Vedrete, troverete qualcun altro anche più bravo di me. Questo non è difficile. Forse questo lavoro non è adatto a voi. L'avete studiato. Forse avete ricevuto una proposta migliore, lo capirei. Anche se mi dispiacerebbe molto. La verità è che da quando siete arrivati non riesco a immaginare questo posto senza di voi. Davvero? Lasciamo stare. Potrei chiarvi dei problemi e voi siete stato gentile con me. Di problemi? Ma che ti sei? Mi fa finito, ci vediamo domani. Buonavolta Maria. Parla in ascolano. Anna. Ma perché non mi guardate? Anna. Anna non è il mio nome. I miei documenti sono falsi. Come sarebbe dire il vostro nome? Quale sarebbe il vostro nome? Esther. Esther Power. Siete pre? Perché hai due commenti falsi? Non siamo mica in Germania. Gli apri non sono mica perseguitati qui. Già. Perdono solo il lavoro. Non ci permettono più di insegnare nelle scuole. Mio fratello non ha potuto continuare all'università. Mio padre ha venduto la casa e il negozio e non so più dove siano finiti lui e mia madre. Ma non è così grave, in fondo. Non siamo mica in Germania. Non ancora. E poi c'è stato questo lavoro. E per un po' mi sono illusa che Esther non esisteva più. Che ero Anna. Che il mio posto era questo e che qui avevo trovato qualcosa. Ma perché non me l'avete detto? Lo sto dicendo adesso. Insomma. Insomma. Avete visto un po' delle cose che cercavo di dire, no? O che ho cercato di fare. Poi che siamo venute bene o male, lo deciderete voi. Però l'importante è che, ecco, lo spettatore è un po' come il lettore, no? C'è il lettore che legge e c'è il lettore che rilegge. A me qualche volta rivedere film, anche qualche volta non tutto, no? Però mi aiuta. Perché dico, ma cavolo, non avevo notato questa cosa. Forse perché è anche bello essere la prima volta semplicemente spettatori, no? Ed è anche giusto che sia così. Però, per esempio, questa è una scena che per me era decisiva, importante. Che ci fosse una temperatura emotiva giusta e nello stesso tempo che non ci fossero troppi discorsi prefabbricati, come accade spesso, no? Tutto era... Per esempio, io in un film che si chiama Fuori dal mondo, a un certo punto c'è Silvio Orlando che deve raccontare la sua vita. Un giorno viene questa suora, che è Margherita Bui, lo va a trovare perché lui si è sentito male. e lui comincia a parlare, deve parlare della sua solitudine, no? Un altro avrebbe detto, sì, non sto bene, mi sento solo. Sarebbe stato nella scrittura fin troppo diretto, no? Invece il linguaggio, il dialogo deve cercare sempre di trovare... È come se deve trovare dei appoggi, dei meccanismi. Allora il personaggio di Silvio non dice sono solo, dice certe volte vado fuori per lavoro, no? Per ragioni di lavoro. Sa cosa faccio quando entro nella mia camera d'albergo? Mi domando a chi telefono? A chi dico che sono arrivato, che la camera è accogliente, che... No, cose... E dicendo questa cosa, che sta su un altro piano, che non è quello diretto, della pena che viene mostrata allo spettatore, capisci che sta parlando della sua solitudine, no? Capisci che sta... Ecco, io mi aspetto questo, da dialoghi, come quando lui con questa ingenuità dice, ma i fascisti, dopo le leggi razziali, dice, ma i fascisti qui non sono perseguitati, sono solo discriminati, no? Non succede qui quello che succedeva in Germania. E lei ha questo soprassalto, no? Di verità e anche un po' di indignazione. Per cui penso che ogni film ha degli agguati, no? Ha degli agguati che bisogna movimento, a cui penso che il regista deve schivare, deve essere molto attento a non verbalizzare troppo le questioni, no? E anche perché noi dobbiamo in qualche modo far capire che un conto è la trama, ma un film non è mai la trama. Così come un libro non è mai la trama. Madame Bovary, se guardate la trama, ma che trama è? Una donna piuttosto sciocca, che però diventa un'eroina tragica e enorme, però piuttosto sciocca, banale, che fa delle fantasie, delle sue letture, di una vita diversa da quella che copre, che si innamora di uno scialbo medico di campagna, che tuttavia anche lui ha una dimensione tragica enorme. E poi lei colleziona questa serie di illusioni sentimentali che la portano al suicidio. Ma se voi andate a vedere, la forza di Madame Bovary sono le scene, sono le scene. Quando lei, la prima volta che cede all'amore di Rodolphe, è incredibile il dialogo che c'è tra loro, i movimenti che fa Rodolphe, quello che succede dopo l'amore. Per esempio la prima volta che Rodolphe la corteggia, sono affacciati su una terrazza, dove in basso c'è in questo paesino, c'è una manifestazione in cui vengono dati dei premi agli agricoltori, per cui si parla, si sentono, mentre loro sospirano d'amore, si sentono le voci di questi personaggi che dicono all'agricoltore Geromo, cinque franchi per... Perché questa, Flauberti dice, questa è una storia sull'amore e sul denaro, è una storia che riguarda questa piccola borghesia ipocrita che riesce addirittura a determinare in questo modo la caduta di questa donna, che poteva solo essere una che aveva sbagliato, ma invece la ferocia della provincia, la ferocia del denaro, la ferocia della grettezza umana, spinge anche dei suoi amanti, anche di quelli che non hanno rischiato niente, mentre lei rischia davvero tutto. E questa è una cosa molto interessante. Se pensate a Guerra e Pace, il principe Andrei si innamora di Natascha, ma qualcuno si ricorda quando è la prima volta che Andrei incontra Natascha? Andrei incontra Natascha, dopo la battaglia di Austerlis ferito, torna a casa, è un uomo distrutto, pessimista, ha 31 anni, sembra che ne abbia 60, perché in quell'epoca in Russia 32 anni era un'età rispettabile, non sopporta sua moglie, tra l'altro la moglie muore dando alla luce una bambina. In questo momento in cui incontra Natascha, lui sta andando in carrozza a trovare il papà di Natascha, che lui conosce, perché è una persona con cui deve discutere di questioni che riguardano le terre, questo signor Rostov, perché si chiamava Natascha Rostov. Ed è l'inizio della primavera, perché la Russia, dopo un inverno, l'inverno rigido, che potete immaginare come poteva essere l'inverno rigido russo, con riscaldamento come era allora, comunque comincia a manifestare nel paesaggio qualcosa che assomiglia a una ripresa della vita. Lo sguardo di Andrei si ferma su una quercia che gli sembra che non sappia che farsi in queste piccoli scene di vita, sembra quasi che non accetti tutto questo, sembra riottosa tutto quello che riguarda una vecchia quercia rugosa. E ad Andrei gli sembra di ritrovarsi un po', come animo. Poi entra in questo vialetto della tenuta dei Rostov, la faccio molto breve, e a un certo punto vede delle contadinelle, tra di esse c'è una ragazza, la vede di nuca, non la guarda nemmeno in faccia, non sa nemmeno come sono i suoi occhi, ma la sente ridere. E allora Andrei senti questa risata di questa ragazza che aderisce così pienamente a questa giornata primaverile, in questa risata piena di gioia che è della sua età, che è di questa sensazione che finalmente è primavera, in russa, immaginate che poteva essere. E a un certo punto lei dice, Andrei dice, perché ride così? Perché è così felice? E dà un sentimento quasi di dolcezza, però ha anche una specie di dolore acuto, fortissimo, che misura tutta la sua tristezza. A un certo punto va da Rostov, non la vede quindi, pensate a Tostoi che genio, questo è messo in scena, non li fanno incontrare, non li fa incontrare. Lui parla con Rostov, Rostov gli dice di rimanere lì alla notte a dormire, lui sta per dormire, sente di nuovo la voce di lei che dalla finestra sotto sta parlando con sua cugina e parla di questa notte di primavera. E ancora una volta la voce di lei e non si incontrano. Pensate che cosa, che rilancio, che aspettative rispetto a quando si rincontreranno, pensate che idea di messa in scena, questo è al di là, va al di là della trama, queste sono le cose che contano. Poi noi che cosa ci ricordiamo quando andiamo a vedere un film? Bella quella scena, vi ricordate quella scena in cui lui? Ma questo anche nei film tipo Sfida infernale, Arrifonda, il ballo di Arrifonda o la camminata di Arrifonda, che è una camminata, non so, fantastica, che mi ricorda anche un po' Luciano quando guarda fuori dal saloon, guarda verso il mondo, eccetera, però ci sono tanti film che sono pieni di segreti, di misteri, il film è un mistero, un segreto, è come una valigia che ha un doppio fondo e noi dobbiamo cercare di scovare se non c'è il doppio fondo, ma che ci frega a noi nel film, perché dobbiamo perdere due ore? Ma anche nei film di Hitchcock, anche nei film, nei musical, non sto parlando, andiamo avanti e finiamo, va! Allora, Questo è l'arrivo di un personaggio che sta prodotto un po' così, da melodramma, mentre loro cresce il loro amore, in questa notte di tre genda, c'è questa soggettiva, c'è qualcosa che entra, tutte le minacce, tutto il bene, entra in questo posto. Quindi tutto si oscura, la loro storia d'amore, perché è arrivato lui, che ha a che fare con lei. Il ristorante comincia a essere frequentato sempre più dai fascisti, ci sono anche delle ricerche in atto sulle pezioni, però vogliamo andare alla fine, dai, andiamo alla fine. Faccio vedere solo, anche questa è una scelta non realistica, se guardate, questo sembra il coso, il Green Pass. Mario, le tene di visa, come? Vado avanti, questo è il vecchio professore, questo è anche interessante perché... Ma voi professori eravate professori di cosa? Insegnavate all'università, vero? Insegnavo diritto. Ah, quindi avete girato vedetto al fascismo? Certo, certo, sono stato da tre primi. E allora avrei dovuto lasciare i miei studenti in mano a questi pazzi? Ma facendo così mi sono sottratto la responsabilità e ho rinnegato tutto quello in cui avevo creduto. Disobbedire ad una legge sbagliata a volte, ragazzo mio, è un obbligo. Era scritto prima della pandemia. Vedete, il mondo esterno cambia, ci sono delle ombre. Vabbè, questo ve lo risparmio, andiamo avanti alla dichiarazione di guerra. Però è bello vedere Lino Musella, no? Che è questo fascista... La camerata è appena arrivata. Ci ha portato questi documenti da Roma. Guardate, loro stanno dentro il suo ristorante e lui per la prima volta viene lui da fuori. Entra nel suo ristorante dove loro hanno preso possetto, no? Guarda qua. Questa è tutta gente che non ha niente di meglio da fare che complottare contro il governo. C'è di tutto, eh? Delinquenti, ebrei, comunisti invertiti. Qualcuno si nasconde in Francia, qualcuno in Svizzera. Qualcuno cerca di scappare ancora più lontano, in America. Qualcun altro invece di starsene a casa sua viene a rompere i coglioni qui nascondendosi come un ladro. Magari questo lo conosci. Romolo Baldini era un sindacalista. L'hai visto? Questo qui? Emil Costa. È un francese. Anche se adesso si fa chiamare Julien Soray. Il nome del cazzo. Ancora non abbiamo capito che cosa è venuto a fare qua. Ah, è stato pure in Spagna con i repubblicani. I nostri in Francia dicono che è sposato. Di lei sappiamo solo che si chiama Esther. Italiana, ebrea. È tutto quello che sappiamo. Cos va? Ma perché mi dici queste cose? Perché qualcuno dice che li ha visti girare qui intorno? Qui intorno dove? Qui intorno, Lucia. Dalle parti nostre. Magari sono entrati pure qui. È interessante in questo schema tre, questo personaggio che è una comparsa, che non ha una dimensione narrativa, che semplicemente guarda Riccardo in silenzio, che crea quella tensione abbastanza evidente in questa scena, e che ci dà l'idea della difficoltà in cui si trova in questo momento. Lui sta nascondendo qualcosa, e di questo suo amico, che dichiara la sua amicizia, che in grande disinvoltura, esprime il suo linguaggio, tutti i suoi valori di fascista. Adesso vi faccio vedere la scena, la dichiarazione di guerra, e abbiamo finito. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.